inizia la preparazione dei pangoccioli versando in una ciotola 250 ml di latte tiepido 20 g di zucchero 15 g di lievito di birra fresco mescolo questi ingredienti e aggiungo 100 g di farina manitoba lascio riposare per 15 minuti dopo questo breve riposo aggiungo al lievitino 40 ml di olio di semi di girasole un uovo 80 g di zucchero 400 g di farina manitoba che andrò ad aggiungere un po' alla volta e 100 g di gocce di cioccolato fondente 1 1 1 1 un Ho tenuto un composto particolarmente morbido, copro con della pellicola trasparente e lascio lievitare per almeno due ore. Musica Dopo due ore di lievitazione riprendo l'impasto e realizzo delle piccole palline che farò lievitare per un'ora. Musica Dopo l'ulteriore lievitazione spennello le palline con un po' di latte ed in forno in forno caldo a 170 gradi per circa 20 minuti. Ebbene amici se questa ricetta vi è piaciuta vi invitiamo a lasciare un like, un commento e ad iscrivervi al nostro canale. Come sempre vi ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle nostre ultime novità è sufficiente effettuare l'iscrizione al canale e cliccare la campanellina che trovate in basso a destra. In questo modo riceverete una notifica ogni qualvolta noi pubblicheremo un nuovo video. Vi aspettiamo numerosi. Musica 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 Musica